Una serata partecipata a questa che si è tenuta al Salone Lux per il compleanno di Rivarolo Canavese, occasione anche per il progetto Memoria e per la prima edizione del sigillo di Rivarolo. Si è trovato un bel mix in questo appuntamento che ricordava i 160 anni della conferimento del titolo di città da parte di Vittorio Emanuele II a Rivarolo, quindi un bel mix con questi sigilli civici che sono un riconoscimento che il Comune vuole assegnare a cittadini che si sono particolarmente distinti nelle sociali, nell'attività culturale, nell'attività imprenditoriale e che ha avuto una bella sintesi secondo me in questi tre personaggi che abbiamo premiato questa sera, da Rosanna Farina, responsabile della Caritas, a Carlo Legge, animatore di attività nelle scuole, a Renato Rossi che festeggia i 100 anni della sua attività, lui no, ma i figli discendenti di questo suo lavoro di mobiliere in Rivarolo. Una premedizione che quindi si ripeterà, sono altri cittadini a proporre i candidati meritevoli? Sì, la formula è questa, è stata dotata dal regolamento approvato nell'unità del Consiglio, i cittadini o i consiglieri comunali o gruppi civici che si costituiscono autonomamente propongono la commissione insediata in Comune e formata da consiglieri comunali maggioranza e minoranza e preseduta dal sottoscritto e con rappresentanti delle associazioni di volontariato o delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio, sono queste entità che propongono dei curriculum di personaggi che fu la commissione esamina. In questa prima edizione ne sono arrivati parecchi e sono stati individuati questi tre personaggi che ci pare, parso a giudizio della commissione, davvero esemplificare bene quello che può essere stato per Rivarolo questa attività da loro svolta nei vari ambiti delle rispettive attività. Il progetto memoria però è ben più articolato, non si limita solo questo? Il progetto memoria è più articolato, deve fare i conti con i bilanci che non sono dei più risfigati, pensate che tutta questa attività di questa sera è stata, è anche compreso il concerto dei regicorni, è stata resa possibile grazie a un paio di sponsor che hanno offerto sia la pubblicazione delle vari stampati che abbiamo fatto in questa occasione, sia il concerto dei regicorni, quindi la dimostrazione del fatto che anche l'interazione tra comune e privati, sponsor privati può portare dei buoni risultati anche se chiaramente avendo a disposizione più risorse si potrebbe anche immaginare qualcosa di più grandioso, di più radicato anche nel territorio. Grazie a tutti.